Immagina questa situazione. Tu sei da un lato della barricata armato soltanto di un coltello da cucina e dall'altro lato della barricata c'è un intero esercito con fucili e mitra puntati contro di te e non c'è nulla che tu possa fare per uscire da quella situazione se non arrenderti all'evidenza. Ebbene, arrendersi all'evidenza è l'essenza del patteggiamento. Significa accettare la situazione di fatto e trovare un accordo con il pubblico ministero sulla pena. Un accordo che di fatto detta le condizioni della resa. In sostanza il patteggiamento è un accordo fatto tra te ed il pubblico ministero che dovrà poi essere ratificato dal giudice sulla pena da applicare in relazione a un determinato reato che hai commesso. Quindi tu, ovviamente non sarai tu personalmente ma il tuo avvocato, ed il pubblico ministero vi mettete d'accordo sulla pena da applicare concretamente evitando così di entrare nel merito della vicenda. Ora certamente qualcuno potrà dire sì ma conviene veramente cioè è veramente una scelta opportuna e utile quella di firmare un armistizio con il pubblico ministero e lasciarsi condannare senza neppure lottare nemmeno un tantino così. È chiaro che la convenienza o meno di una scelta processuale dipende da tante variabili e una di queste variabili l'abbiamo già vista cioè il patteggiamento può essere una opportunità concreta quando non ci siano strade astrattamente percorribili ed idonee ad ottenere un risultato processuale che sia in qualche modo vantaggioso per la situazione in cui ti trovi. Quindi quando il vantaggio in termini processuali supera i possibili svantaggi il patteggiamento potrebbe essere la strada migliore da seguire. Per esempio io non mi sognerei mai di consigliarti un patteggiamento in una situazione in cui abbiamo degli importanti elementi a favore da giocarci in sede processuale. In questi casi ovviamente si va a fare il processo e si mettono in campo tutte le energie e tutte le forze che noi abbiamo a disposizione. Da allora vista in quest'ottica il patteggiamento è una scelta di opportunità che fa l'imputato e da cui si ricollegano alcuni benefici di grande rilievo. Primo tra tutti è il fatto che patteggiare significa evitare l'allungaggine del processo. In pochissimo tempo se il giudice dovesse ritenere congrua e legittima la pena scriverà la sentenza e tutto sarà finito. Inoltre la scelta di questo rito consentirà di ottenere degli ulteriori vantaggi soprattutto in termini di pena perché sul calcolo della pena base che si ritiene essere congrua per quel delitto si dovrà operare uno sconto fino a un terzo della pena che era stata decisa in partenza. Se per esempio era stata decisa una pena di tre anni si toglierà un anno da quella pena, un terzo, e si arriverà alla pena definitiva di due anni. E proprio però per la premialità di questo rito, cioè proprio per i vantaggi che si conseguono, che conseguono a questa scelta processuale anche in punto di pena accessoria, sono escluse o comunque sono limitate alcune ipotesi nel senso che ci sono dei casi in cui non è possibile chiedere il patteggiamento. Diciamo che possiamo fare una prima distinzione che potremmo definire. Diciamo che possiamo fare una prima distinzione che possiamo definire qualitativa e quantitativa. Quando parlo di distinzione qualitativa faccio riferimento al tipo di reati perché ci sono alcuni reati per i quali la legge impedisce che vengano definiti con il patteggiamento. Si pensi per esempio a tutti i reati che concernono la violenza sessuale o la violenza sessuale sui minori, oppure a reati in materia di criminalità organizzata o di terrorismo. Ecco, per questo genere di reati non può essere chiesto né ottenuto il patteggiamento. Quando invece io parlo di distinzione quantitativa faccio riferimento alla quantità di pena che ipoteticamente potrà essere applicata al caso di specie perché la legge impone che si possa chiedere ed ottenere di definire il procedimento con il patteggiamento solo quando la pena detentiva, tenuto conto anche delle circostanze e diminuita fino a un terzo come abbiamo visto prima proprio per la premialità del rito, quindi diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni. Quindi al di sopra di cinque anni, se la pena che ipoteticamente si deve applicare è superiore ai cinque anni, non è possibile chiedere o ottenere il patteggiamento. Bene, con questo abbiamo concluso quella che è la panoramica, una panoramica generale su quello che è il patteggiamento. Se il video ti è piaciuto non ti dimenticare di lasciarmi un like e di iscriverti alla pagina Facebook o al canale YouTube così sarai aggiornato sulla pubblicazione dei prossimi contenuti. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie.